Ciao, sono Manolo e mi fa piacere partecipare a Restart Dodolumiti. Se posso fare qualcosa perché no? Allora mi hanno chiesto di trovare qualcosa e quello che ho trovato è questo imbrago che, porca miseria, un po' mi dispiace perché mi ha fatto una gran compagnia negli ultimi anni di attività, soprattutto quella dove ho realizzato le vie più difficili della mia carriera, se vogliamo, sportiva. Quindi vi aspetto a tutti il 26 gennaio a Villa Pat e mi raccomando siate generosi e numerosi a quell'asta. Grazie e arrivederci.